E' stata smarrita una bambina di 38 anni con le messe. L'ultima volta è stata vista tra i mercatini del parco Rimini 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 mentre faceva fuori tutti i soldi del marito, con una certa soddisfazione. Rimini Rimini Rimini, il parco con la Romagna dentro. Ingresso gratuito. Rimini Alta, tutte le sere.